Quanto costa? Presto! Oma? E' per mia moglie! Oh! Ah! 20 sigla! Ok! Cosa? Ecco qua! Aspetta un momento! Dobbiamo prima trattare! No, no, devo andare! Come sarebbe? Non ho tempo! Allora ridammelo! No, scusa, io ti ho già pagato! Bart! Che c'è? Questa qui non vuole trattare! Non vuole trattare? Va bene, dobbiamo proprio! Cominciamo! Ne voglio 20 per questa! Io te ne ho dati 20! Mi vorresti dire che non vale 20 sigla questa? No! Guardala! Senti che qualità! Non è mica pello di peccolo! Va bene, te ne do 19! No, 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 no! Fallo come si deve! Cosa? Ah, passa il prezzo! Questa qui non vale 19! Ma sei appena detto che ne vale 20! Oddio! Andiamo, trattano! E va bene, te ne do 10! Così va meglio! 10! Ma stai cercando di insultarmi? Me, con una bisnonna e fin di vita! 10! Va bene, te ne do 11! Devi che capisci! 11! Ti mangio la linguala! 11! Se mi è costata 12 a me, tu me vuoi rovinare! 17! No, no, no! 17! 18! No, no, no! Devi dire 14! Te ne do 14! 14! Ma tu me vuoi fregare? Me l'hai detto tu di dirlo! Ma valla! Dimmi che devo dire! Presto! Offrimi 14! Te ne do 14! Ma ne sta offrendo 14 per questo! 15! 17, ultima offerta! E se a meno te la dà, la testa me possa tagliare! 16! Figlio! È una bellezza trattare con te! Sai che ti dico? Ti do anche la zucchina! Non mi serve mai, grazie! Mart! Che c'è? Va bene, va bene, ho capito! Dove sono i 16 che mi devono? Te ne ho dati 20! Ah, già, è vero! Allora te ne devono 4! No, non fa niente, lascia stare! No, aspettacelo da qualche parte! Non fa niente, tienili per la zucca! 4? Per quella zucca qua? 4! Ma guarda, la ne vale almeno 10 a di scicla! Ma se hai detto che me la davi per niente! Certo, ma come un regalo da 10 a! Va bene, d'accordo! Ma no, non ne vale 10 a! Tu sei una capra, il bello è! 10 a per questa! Hai perso la testa e impara a comprare! Ah beh, fossero tutte pazze così!